5 cose che dovresti sapere prima di iscriverti a fisica Anzitutto vi dai presente che puoi iscriverti a fisica e puoi davvero riuscirci a prescindere dai voti del liceo o da quello che ti è stato detto di due insegnanti Numero 2, è normale soprattutto all'inizio che le cose non ti riescano o che ti risultino estremamente difficili La fisica dell'università è un mondo completamente nuovo e diverso per cui ci vogliono impegno e pazienza per avvituarsi Prenditi il tuo tempo Numero 3, non fare come me e arriva preparato o preparata Questi sono alcuni degli argomenti che io consiglierei di approfondire e per farlo potete usare YouTube o siti come YouMeth, ILoveMeth o ChimicaOnline Numero 4, scegli un ambiente che faccia per te Ogni università è un mondo a sé con la propria mentalità e il proprio modo di pensare per cui assicurati che il posto che scegli sia davvero quello in cui vuoi vivere per i prossimi anni Infine, cerca di essere paziente Purtroppo tutti gli argomenti fighi per cui si sceglie fisica al liceo non saranno trattati almeno fino al terzo anno ma se avrai la pazienza da aspettare i tuoi sforzi saranno ripagati